Francesco, barattiamo narrazioni, in nostra compagnia Francesco Lattarù. Francesco, ti senti più immigrato o emigrante? Ma in realtà nessuno delle due, forse più migrante, senza la E, che il termine migrante mi dà l'idea della dimensione del viaggio continuo, della conoscenza, di una meta sempre da inseguire. Insomma l'idea dell'esperienza continua, questo mi piace salvare nella parola emigrante, il concetto del viaggio, per usare una parola complessa, dell'uomo viator, del viandante. Cosa sei disposto a fare per la cura della comunità? Beh, è una bella domanda. In realtà le comunità sono organismi complessi. Non è sempre facile trovare l'accordo, l'armonia, però credo che sia indispensabile in lavoro di gruppo, perché soltanto, diciamo, partecipando le esperienze che uno comunque necessariamente compie in solitudine, ecco, c'è la vera crescita. Ecco, la conoscenza non può che essere una messa in comune di singoli sapere. credo che questo sia estremamente importante. L'importante è che le comunità non diventino, diciamo, contesti ghettizzanti, contesti chiusi, autoreferenziali, in cui c'è bisogno di fare comunità per contrapporsi ad altri. Nel momento in cui sono libera associazione di uomini e di idee, ecco, credo molto, io mi batterei molto in questa prospettiva. Grazie. Grazie a voi.